Il Comune di Sant'Egidio ha preso un'importante decisione per ciò che riguarda la sicurezza perché ha dotato di armamento i Vigili Urbani. Sì, oltre questo sto facendo anche altre cose. Questa era una cosa ormai vecchia che ho trovato nei cassetti del Comune, dentro la cassaforte per dire la verità, le armi che furono acquistate tanti anni fa e poi mai consegnate comunque al corpo di Vigili Urbani. La documentazione era anche tutta pronta, naturalmente non è che per fare aggressione a qualcuno ma è solo per metterli in condizione di poter operare ai nostri Vigili Urbani anche perché a volte intervengono anche insieme all'arma dei Carabinieri e anche di Polizia. Questo per dire che abbiamo dato attuazione a quelle che erano le intenzioni dell'amministrazione quando queste armi furono acquistate nel lontano 2002. Quindi il provvedimento è immediatamente esecutivo? Sì, immediatamente esecutivo, infatti pronta la documentazione, l'assegnazione l'ho già fatta, quindi oggi sono armati. Poi c'è stata anche l'approvazione del regolamento, anche da parte del Consiglio Comunale, con voto unanime di allora. Oggi sono dotati di armi. Spero, come ho detto e lo ripeto, che non vengano mai utilizzate, che sia soltanto un deterrente così apparente, ma insomma speriamo che rimangano sempre nelle fondine dei vari Vigili Urbani. In programma, sempre da parte dell'amministrazione, anche un implementamento di quello che riguarda la videoserviglia? Sì, anche lì è un impianto che è stato realizzato dalla precedente amministrazione, poi mai avviato. Fu avviato per prova, mi è capitato di sentire, ma insomma comunque l'impianto è ancora fermo. Ho detto che lo faremo partire, lo faremo partire prima possibile, anche perché sono stati investiti circa 200.000 euro e non può rimanere quell'impianto, ormai diventa anche obsoleto, perché parliamo di tecnologie di 5-6 anni fa. Intanto attiviamo quello che abbiamo nei cassetti, poi successivamente studieremo anche un sistema diverso attraverso fibra ottica, attraverso le canalizzazioni che abbiamo disponibili sul comune di San Degidio, tipo illuminazione pubblica e altro. Questa pure è una bella cosa che questa amministrazione intende fare. Io mi sto interessando un po' di tutto, anche dei problemi più grandi, però non sto trascurando niente, anche questo, abbiamo parlato di carnevale, forse è la cosa meno importante in questa fase, però ci occuperemo anche di questo.